Picchiata brutalmente minacciata con un coltello perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito non a ladri o rapinatori ma alle sue due figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa un mese e mezzo fa quando le due ragazze dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online. Al rifiuto della donna violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni, la mamma ha cercato di sottrarsi alla furia delle ragazze ma è stata bloccata e minacciata con un coltello. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco dove i sanitari l'hanno medicata. Sette i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma dell'episodio. Sono stati informati anche i carabinieri. Le due ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Una vicenda inquietante che induce ad una riflessione sulla famiglia di oggi e sui rapporti tra genitori e figli. Un fatto doloroso in cui c'è una figura materna che è stata presa, io userei l'immagine, come una mamma salvadanaio. E questa mamma salvadanaio dovrebbe avere il dovere di finanziare le spese delle figlie. Grazie a tutti.